Grazie a Federico Zampaglione, il nostro ospite di questa penultima serata Toror Film Fest. Grazie a Federico di essere il nostro ospite. Allora, questo è il nostro incontro autore, l'abbiamo chiamato. Michele? Ce l'abbiamo un po' l'audio del microfono qua? Ah, quello lì, quello lì. No, non importa, parli dal mio, ok. Questo è appunto uno degli eventi di questo Toror 2012, noi siamo molto felici che Federico abbia dimostrato la sua simpatia ancora una volta nei confronti del Toror, è già venuto una volta, è già stato ospite in occasione dell'uscita di Shadow ed è venuto a portarci un piccolo, anche un piccolo regalo riguardo al suo nuovo film Tulpa, io quindi darei subito la parola a lui che ci introduca, insomma, i motivi della sua venuta a Torino. Beh, il motivo è semplice, l'hai detto tu per il Toror, noi ci siamo conosciuti nel 2009, io a Biasigio e mi è piaciuto subito l'entusiasmo, insomma, l'approccio anche perché questo è un genere che in effetti va un po' di peso per sopravvivere e vivere poi al punto solo di persone che lo amano, in qualche modo fanno sì che si possano proiettare i numeri di questo tipo, la gente li venga a vedere. Grazie